Fratelli e sorelle, ancora una volta il Vangelo di Marco, siamo al capitolo decimo, viene a indicarci la vera condizione del discepolo di Gesù. Una parola dura, ma che se accettata può diventare veramente il punto di cambiamento personale, ecclesiale e, perché no, della società. La vera condizione allora è che bisogna dare la vita. Ma in che contesto Gesù inserisce questo discorso che lui è venuto per dare la vita, non per essere servito, ma per rendere giustizia alla verità. Innanzitutto il contesto è quello della vera portata della vocazione del discepolo, quello cioè di essere associati, nello stesso momento, alla sua gloria e alla sua passione. Questa adesione alla parola di Gesù è condizionata dalla sua stessa presenza, dal suo stesso comportamento. Se vogliamo essere discevoli non possiamo che compiere la stessa opera di Gesù. E lui, come ci dice chiaramente, è venuto non per essere servito, ma per servire. Ed entrambe queste dimensioni, sia del discepolo che della Chiesa, sono le occasioni perché possono diventare come una epifania, una manifestazione della presenza del Figlio di Dio e nello stesso momento un'associazione alla propria gloria di Figlio di Dio. La missione allora entrambi, sia di Cristo che dei discepoli, non è quella di distruggere il mondo, ma dare la vita per salvare questo mondo. L'incomprensione dei discepoli, allora di fronte a questa realtà dura, cruda, diceva all'inizio anche per noi, è difficile. C'è un'incomprensione totale, radicale, fra i discepoli e il pensiero di Gesù. Quando Gesù rivela la sua passione, Pietro dice che se non te accadranno mai, oppure nella totale spoliazione di tutti i beni. E ancora Gesù dice che chi vuole essere il più grande deve essere il più piccolo. L'incredulità nell'apprendere che non è possibile violare il legame del matrimonio, oppure il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, il sonno dei discepoli nell'orto degli olivi e nel gettisemani. Ecco, allora questa incertezza, questa paura dei discepoli e anche la paura della Chiesa di Marco, come anche forse di molti cristiani ecco di oggi, che nella tempesta, una cosa è chiara che viene dall'Evangelo, non abbiamo il diritto di avere paura. Perché? Perché quel Cristo che apparentemente per noi dorme è il risorto, è il vivente, che è sempre vivo e agisce con la potenza della sua parola, ma agisce alla sua maniera. Di fronte allora a tutte le difficoltà che attanagliano il mondo, ricordiamoci di questa verità. E in questo senso allora va intesa anche l'immolazione, la donazione e il calice che Gesù dice può essere reso partecipi a chi si fa suo discepolo. Ecco allora in questa dimensione del risorto siamo chiamati a vivere come cristiani, come credenti innanzitutto, il momento dell'avvio di questo cammino sinodale della Chiesa italiana, che fa venire l'orticae ad alcuni buon pensanti. Il Papa invece nel suo discorso inaugurale ci ha ricordato tre verbi, tre realtà importanti del sinodo, la comunione, la partecipazione, la missione. Ecco, dei cristiani che stanno a vivere in comunione, nella partecipazione di mettere in in comune, in comunione i propri carismi per vivere l'autenticità della missione. E tutto ciò permetterà, se veramente è vissuto, non con dei documenti o delle lucubrazioni, ci permetterà ecco di evitare questi rischi che il Papa dice, quello del formalismo, dell'intellettualismo e dell'immobilismo. Allora questo momento può diventare un'opportunità per fare in modo che ci sia una Chiesa in ascolto della realtà del mondo, delle esigenze reali della gente, della vita concreta, ma soprattutto una Chiesa che sappia vivere la sua vicinanza con la realtà del mondo. E tutto ciò, dice il Papa, e lo dobbiamo credere anche noi fratelli e sorelle, deve essere non un cammino occasionale, ma strutturale nel pensiero, nei presupposti e nella vita. Allora Gesù ci ricorda che questa compassione di lui, buono di Gesù Cristo come sommo sacerdote, come ci ricorda la lettera e l'ebrei, lui che è venuto per espiare i nostri peccati come servo obbediente, ci metterà, come ci racconta ecco Isaia nella prima lettura, ci metterà nella condizione di vivere autenticamente la nostra missione, la nostra identità, la nostra santità. Buona e santa domenica a tutti.